Federica Pellegrini ha ricevuto il tapiro d'oro da Valerio Staffelli durante la trasmissione striscia la notizia in seguito all'esclusione del suo ex maestro Angelo Madonia da Ballando con le stelle, per, divergenze professionali. Pellegrini ha espresso la sua sorpresa per la decisione della produzione, affermando, non pensavo arrivassero a questo punto. L'ex nuotatrice ha commentato la situazione evidenziando che l'esperienza di Madonia nel programma è stata compromessa e che il suo percorso è stato interrotto. In particolare, Federica ha parlato di episodi che hanno coinvolto Madonia e Sonia Bruganelli, compagna del maestro. Durante le esibizioni, Pellegrini ha notato che Madonia si girava frequentemente a guardare Bruganelli, rivelando il suo disappunto, questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all'aria due mesi di lavoro. La Pellegrini ha quindi manifestato la sua frustrazione per la situazione e il suo desiderio di ripartire. Il tapiro d'oro ricevuto è il suo ottavo, e Federica ha scherzato sul numero con Staffelli, domandando ironicamente quanti ne avesse ricevuti fino a quel momento. Nonostante l'esclusione di Madonia, Federica ha confermato la sua partecipazione al programma e il ritorno di Samuel Peron come nuovo insegnante. Ha dichiarato, si ricomincia tutto da capo, Samuel Peron mi ha già massacrato, quindi magari mando via anche lui. Il debutto di Federica con Peron è previsto per la decima puntata di Ballando con le stelle, in onda il 30 novembre 2024 su Rai 1. In sintesi, Federica Pellegrini ha colto l'occasione per esprimere le sue opinioni e frustrazioni riguardo all'esclusione di Madonia e agli atteggiamenti osservati tra lui e Bruganelli, mentre si prepara a una nuova fase di gare nel programma di danza, pronta a lavorare con un nuovo partner. Grazie per la visione!